Siamo pronti per far entrare in campo i maschi di tre anni categoria numero sei. Invitiamo quindi in campo i giudici che già si stanno preparando al centro del ring. Siamo pronti quindi per far entrare i cavalli della categoria sei. Class number six will be ready to enter in the arena. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. FANARA Vincenzo è il proprietario ed è allevato da NWA Arabian Larsen Danimarca. 15, 16, 15 e mezzo, 15 e mezzo in arti, 15, 16, 15.5, 15.5 for legs, 18 e mezzo, 19, 18 e mezzo in movimento, 18.5, 19, 19, 18.5. Il totale è 357,5, 350, 7.5. Allora abbiamo un pari merito come punteggio totale ma prevale punteggio in tipo e pertanto abbiamo per il numero 50 Majestic NWA 74 punti in tipo sul totale di 357,5 e per Mabel Star K.A. 357,5 il totale 76 il tipo. Allora abbiamo un pari merito. 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 Allora... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 360.5 e abbiamo una prima posizione di quella che è la classifica provvisoria per prezioso cycle. Grazie a tutti. 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 In seconda posizione abbiamo il numero 48, Mabel Star K.A. di Azienda Agricola dei Goti, Munafo, Francesco e The Winner. Il vincitore della categoria è il numero 51, il vincitore della categoria è il numero 51, Psyche di Piazza Enrico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. al terzo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prossima categoria è il numero 7, la prossima categoria è la numero 7, la prossima categoria è la numero 7, sono le fattrici di 4, 5, 6 anni.